Il vinile torna prepotentemente sul mercato, una riscoperta del vintage che ormai va di moda due giorni per appassionati all'Aquila con una fiera del disco che riscuote sempre molto apprezzamento all'interno del centro commerciale dell'Aquilone, tanti espositori provenienti da ogni parte d'Italia e tanti collezionisti per accaparrarsi l'occasione. Lei da dove viene? Firenze. Senta, c'è una riscoperta del vinile di Icono, c'è una riscoperta, una curiosità da parte degli appassionati verso questo tipo di mercato? Sì, senza altro, sia del vinile che del cd, che ci sia tutto il discorso sulla musica in rete, però c'è senza altro una rinascita di questo genere di supporti. Stavo guardando dei dischi. Senta, c'è una riscoperta del vinile, insomma del vintage, a lei piace girare per questi mercatini? Sì, quando capita sì, quando si ha del tempo sì. Che tipo di musica sceglie? prevalentemente anni Ottanta. Lei da dove viene? Da Ostia. È la prima volta che partecipa a questo mercatino? Sì, come collezionista, diciamo, a livello di hobby. Senta, c'è una riscoperta del vinile? La gente acquista di più, dicono insomma che c'è proprio una riscoperta del vintage? Sì, assolutamente. È già da 5 o 6 anni che sembra sia stato riscoperto. Poi effettivamente per noi collezionisti non è mai finita come cosa. Però sì, il riscontro di persone nuove, giovani, c'è sicuramente. Attualmente stavo guardando qualche disco, il rap italiano un po' vecchio, ovviamente non sono di questa generazione, però apprezzo Lucio Battisti, Calcutta e stavo dando uno sguardo per questo. Ti piace il vinile? C'è una riscoperta, insomma, del vintage anche per i giovani? Diciamo che la mia generazione è più abituata a Spotify, comunque musiche in digitale, però anche il vinile devo dire che regava emozioni diverse sicuramente, a livello di sensazioni più che altro.